Buongiorno a tutti e benvenuti al quinto episodio DigiTalk. Io sono Marco Burattino e faccio parte di Guideware. L'episodio di oggi parla di metaverso e assicurazioni. All'inizio del percorso DigiTalk, nel primo episodio avevamo messo a paragone la notizia del cambiamento strategico di direzione di Facebook, quindi l'annuncio del cambiamento di nome e della grossa scommessa sul metaverso fatta da Mark Zuckerberg quasi un anno fa, con un fenomeno attualmente esistente sul mercato assicurativo italiano che è il boom del bank assurance danni, ovvero il boom del fenomeno secondo cui le banche cominciano a vendere prodotti assicurativi danni. Perché avevamo posto a contatto due fenomeni apparentemente così distanti tra loro? Perché secondo noi rispondono alla stessa logica, ovvero la logica di allargamento del campo da gioco. Una logica secondo cui aziende, organizzazioni molto di elevate dimensioni come le istituzioni finanziarie oppure come le big technology company, hanno bisogno di spazi di crescita sempre più ampi, sempre più grandi per dare, per soddisfare quelle che sono le esigenze dei loro azionisti. Cos'è allora il metaverso? Proviamo, cominciamo a provare a dare una definizione del metaverso. Per farlo cominciamo a dire cosa non è. Il metaverso non è una cosa nuova. La prima volta che la parola metaverso compare è all'interno di un romanzo del 1992, Snow Crash di Neil Stevenson. Lì viene per la prima volta nominata la parola metaverso. Successivamente, un altro anno importante è il 2018, anno in cui Wired Stati Uniti si occupa del metaverso, cambiandogli il nome, lo chiama Mirror World, e anno in cui esce anche il film di Steven Spielberg, Ready Player One, che a mio parere è il modo più semplice per cercare di farsi un'idea e di comprendere cosa potrebbe essere, scenario distopico a parte, il metaverso nel futuro, quando sarà pienamente sviluppato. In realtà il metaverso altro non è che uno stadio successivo di digitalizzazione. Abbiamo cominciato a vedere digitalizzare i documenti, le foto, le videocassette, i cd. Poi l'evoluzione ha continuata e abbiamo visto digitalizzare noi stessi attraverso il boom dei social network. E infine il metaverso rappresenta tutto il resto, ovvero la digitalizzazione del mondo che ci circonda. Digitalizzazione che avviene ed è sempre più efficace grazie alla maturazione di alcune tecnologie come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata e la realtà virtuale. Sì, anche perché, non so, molti di voi credo ricorderanno all'inizio degli anni 2000 un altro social network dal nome Second Life. Second Life è un social network che oggi non c'è più, è un esperimento che è fallito. In realtà non è fallito perché non era un'idea intelligente, è fallito perché è arrivato troppo presto, perché appunto replica in tutto e per tutto quelli che sono i concetti del metaverso rispetto a quello di cui parliamo oggi, scontava il fatto che le tecnologie su cui si basava non erano a un livello di avanzamento tale da rendere l'esperienza gratificante e appealing. Il metaverso, quello che possiamo dire, è che probabilmente non è Second Life e sarà più somigliante a Second Chance, ovvero sarà più un'opportunità di evasione da un reale meno soddisfacente a vantaggio di una vita digitale che promette di essere più appealing e magari più soddisfacente. Metaverso e assicurazioni. Cosa c'entra il metaverso con le assicurazioni? Introduciamo l'argomento appoggiandoci su una previsione dell'economista francese Jacques Attali nel suo libro Breve storia del futuro del 2006. In questo libro Attali dice che i business del futuro saranno assicurazioni ed entertainment perché la gente nel futuro avrà sempre più paura e sempre più voglia di evadere. Tornando in maniera un po' più pragmatica sull'utilizzo a livello di assicurazione e ricordandoci di come abbiamo cominciato questo episodio parlando di allargamento del campo da gioco è possibile individuare almeno quattro diverse tipologie di casi d'uso che potranno effettivamente arricchire l'offerta e quindi la possibilità di raccolta premi delle compagnie assicurative. Ci assicureremo? Assicureremo probabilmente il nostro wallet di NFT. NFT è una buzzword che negli ultimi due anni nel bene e nel male ha segnato le notizie online. Potremmo assicurare la versione virtuale degli oggetti che oggi assicuriamo? Persone, abitazioni, mezzi di trasporto. Il metaverso promette di essere un luogo in cui potremmo far tutto tranne mangiare, dormire e andare in bagno come dice il film di Spielberg. Quindi dovremo aspettarci che le nostre versioni virtuali saranno degli oggetti assicurabili. Potremmo avere attività economiche che vivono nel metaverso e quindi i problemi di business interruption dovranno essere gestiti all'interno del metaverso. Infine potremmo avere dei casi d'uso che sono basati anche sulle conseguenze reali di cose che accadono nel metaverso. Un esempio è l'ikikomori, quel fenomeno sempre più diffuso anche in Italia secondo cui le persone smettono di uscire di casa e passano la loro intera vita o tanti anni della loro vita davanti a un computer nella propria stanza. Senza necessariamente dover andare a citare tantissimi esempi che vediamo in serie tv come Black Mirror per esempio. Oggi parliamo di metaverso e di assicurazioni con Mario Carnevale, director di Deloitte Consulting che in Italia sta approfondendo e lavorando insieme alle assicurazioni per supportarle nel trovare opportunità di business per sfruttare questo fenomeno. Mario, anzitutto grazie per essere intervenuto. La prima domanda che voglio farti è, mi aiuti a rendere più chiaro il concetto del perché alle assicurazioni dovrebbe interessare il metaverso? Sì, in relazione al metaverso possiamo dire che il web 3.0 che è l'enabler del metaverso e che supera da un punto di vista tecnologico il web 2.0, non sia altro che l'ultimo stadio di un processo di digitalizzazione in cui siamo stati in grado di rendere immateriali una serie di oggetti tipo le foto, i dischi, le cassette e poi anche noi stessi attraverso i social network. Il metaverso si pone di essere un mondo digitale interoperabile in cui ci sono sostanzialmente quelle persone che conversano, guadagnano, spendono, ma soprattutto combinano anche beni materiali con beni immateriali e poi richiede un modo di ragionare diverso relativamente alla protezione della nostra identità, alle transazioni e poi alla titolarità di beni e la protezione stessa. Per questa ragione il web 3.0 rappresenta un'opportunità per le compagnie assicurative di rivoluzionare sia il proprio modello operativo, quindi in termini di canali piuttosto che processi che il proprio modello di business, quindi in termini di prodotti e servizi. Inoltre dobbiamo ricordare che il metaverso ha già raggiunto dal punto di vista di mercato un valore importante stiamo intorno a circa 50 miliardi di dollari come valore relativo agli NFT. Questo che vuol dire, nonostante ciò però le compagnie non si sono ancora mosse in maniera significativa per sfruttare questo potenziale di business e quello che hanno fatto finora è stato semplicemente traslare quello che viene fatto oggi, che veniva fatto fino a ieri sul web 2.0 sul 3.0 e focalizzarci un po' più sugli aspetti tecnologici, senza considerare che la derivata tecnologica negativa porta a questa evoluzione e quindi porta una serie di rischi connessi che rappresentano un potenziale di business per le assicurazioni. Abbiamo fatto considerare una cosa, perché nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare a seguito degli annunci per esempio dei licenziamenti nelle big tech, quindi si è fatto un gran parlare del fatto che effettivamente il metaverso sia o meno un trend oppure sia solo un'illusione. Certo, Facebook che, cioè Meta che licenzia il 13% dei dipendenti, da questo punto di vista qualche scossone lo ha dato. Qual è la tua interpretazione in merito al potenziale di questo mercato? Guarda, io quello che posso dirti è che quello che si sta vedendo in termini di curva di adoption del metaverso rispetto a quelli che sono gli utenti dei social network è quello che un po' abbiamo visto in passato in termini di curva di tasso di aumento dell'adoption degli utenti di, diciamo, dei social network rispetto agli utenti di internet. Quindi sostanzialmente cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare che il fatto che oggi il metaverso sia utilizzato tipicamente da giovanissimi non rappresenta una cosa negativa, ma rappresenta un'opportunità per le compagnie che decidono di posizionarsi adesso su un mondo che probabilmente fra qualche anno sarà raggiunto dalla massa degli utenti sostanzialmente. Poi facciamo una sorta quasi di provocazione. Se pensiamo che fino a per passare sostanzialmente dalle telefonate alle email ci sono voluti circa 10 anni e dal web 1.0 al web 2.0 abbiamo impiegato altri 5 e ci possiamo aspettare che ragionevolmente succederà lo stesso in termini di 2-3 anni, ci aspettiamo un passaggio di massa verso il metaverso. Iniziamo allora un po' a qualificare quali possono essere le opportunità per le compagnie assicurative. Sì, sostanzialmente per le compagnie assicurative noi come Delo ci proponiamo di supportare le compagnie e lungo la loro giorni nel metaverso. Infatti crediamo fortemente in questo e abbiamo identificato quelli che sono in certo senso le reason why per cui una compagnia dovrebbe entrare nel metaverso. La prima è sicuramente quella dello sviluppo di nuovi prodotti assicurativi che vanno in un certo senso a assicurare quelli che possono essere i nuovi oggetti, quindi nuovi oggetti piuttosto che nuovi need. Pensiamo al tema della protezione da furto della propria identità digitale, piuttosto che dati biometrici relativi a Navata, piuttosto che tutto il tema della protezione di quelli che sono sostanzialmente gli assert virtuali. L'altro tema è quello, l'altra ragione è relativa alla maggiore consapevolezza di alcuni rischi assicurativi che invece prima non si aveva. Quindi pensiamo al caso dell'interruzione di un servizio all'interno del metaverso durante un evento rappresenta un rischio importante e che quindi potrebbe essere oggetto di assicurazione, piuttosto che prodotti legati alla tutela dei beni. Pensiamo ai metaasset, si sente tanto parlare di metaisole, di metacase, sono tutte cose concrete comunque nell'ambito del verso importanti che potrebbero essere tutelate. L'altro aspetto è quello di massimizzare un po' l'esperienza all'interno del metaverso, quindi utilizzare anche il metaverso come una sorta di education, strumento per fare education e quindi rendere ancora una volta una maggiore questa consapevolezza dell'esigenza di assicurarsi sostanzialmente. Tu prima hai parlato, hai fatto cenno del discorso dei metaasset, richiamando un poco quello che è un ambito sicuramente interessante anche a leggere i giornali, a sentire le nuove buzzwords, una di queste è sicuramente i non fungible token, gli NFT, perché sono insieme alla tecnologia blockchain sottostante, sono i veri, diciamo, tre requisiti per fare sì che la grande promessa concettuale del metaverso, ovvero del passaggio da web 2 a web 3 si realizzi. Il web 2 è il primo momento in cui l'economia viene fatta dai creator, però è un'economia nella quale chi guadagna sono soltanto le piattaforme che gestiscono i contenuti dei creator. Con gli NFT e quindi con la paternità di opere digitali si crea un presupposto per fare in modo tale che si arrivi effettivamente a un'economia reale dei creator e quindi che cambiano tante cose. Tuttavia se andiamo a guardare le ultime notizie di NFT negli ultimi sei mesi, passiamo da momenti di esaltazione enorme a momenti in cui anche qui all'hype viene sostituito il canto funebre, no? E quindi volevo capire, dici un po' la tua opinione in relazione al tema NFT anche riguardo a quali campane suona per le assicurazioni questo argomento. Nel metaverso tutto gira intorno al non fungible token, NFT, quindi possiamo dire che l'NFT sta al mondo virtuale come di fatto un oggetto sta al mondo fisico sostanzialmente. Gli NFT sono registrati, sono asset materiali registrati su blockchain, il cui ownership è stabilita grazie a quello che è definito uno smart contract. Sono, diciamo, oggetti caratterizzati da una forte volatilità. Questo perché, prima hai fatto un esempio molto importante, o quantomeno un esempio significativo dal mio punto di vista, che è quello del board ape. Questo perché? Perché sostanzialmente alcuni pezzi di quella collezione sono stati venduti all'asta a cifre importanti. Siamo arrivati fino a più di 100 mila dollari per oggetto e quindi questo lascia intendere quale sia la potenziale volatilità di un, diciamo, di un NFT. Ma alcune aziende hanno iniziato a fare questo, a crederci in maniera significativa sugli NFT e quindi hanno iniziato, soprattutto nel mondo del fashion, a creare delle proprie collezioni di NFT. Pensiamo a Gucci, ad esempio, che ha creato delle collezioni di magliette che hanno, ha permesso di generare revenue fino a 11 milioni di dollari, piuttosto che andando su player più importanti come Nike, che ha creato delle scarpe raccogliendo più circa 185-190 milioni di dollari. Quindi sostanzialmente è un mercato importante su cui, diciamo, che dovrebbe far gola un po' alle compagnie perché c'è un potenziale assicurativo importante. Ma perché le persone acquistano NFT? Le persone acquistano NFT sostanzialmente per il tema dell'univocità dell'NFT. Cioè l'NFT è un qualcosa di unico, non replicabile e quindi è come acquistare un qualcosa di relativo a una limited edition. Quindi io compro un oggetto che mi garantisce, diciamo, questa questa esclusività in un certo senso. Quindi compro questo oggetto, questo oggetto che poi a un certo punto andrà anche in un certo senso tutelato in qualche modo. Quindi sostanzialmente come io ho, diciamo, nel mio portafoglio dei soldi e custodisco i miei soldi all'interno del portafoglio e potrebbe essere oggetto di furto, così anche per i NFT ci sono sostanzialmente dei portafogli virtuali che sono, diciamo, posizionati all'interno di piattaforme e che quindi potrebbero anche essere soggetti a quelli che sono degli attacchi informatici e quindi vanno in un certo senso tutelati in tal senso. Ecco, una cosa importante da questo punto di vista è, almeno, la cosa che secondo me preme ed è rilevante per le compagnie di assicurazione è magari oggi come oggi il metaverso non è un luogo in cui si sviluppa tanta attività di business o non è un luogo già oggi importante. Tuttavia alcune delle sfide che hai nominato fanno breccia in qualcosa che è già emergente. Cioè, se parliamo di attacchi informatici, la realtà odierna ci dice che gli attacchi informatici sono all'ordine del giorno, veramente è frequentissimo imbattersi in problematiche di questo tipo. Tuttavia, se andiamo a guardare la raccolta premi associata a tematiche di cyber risk, oggi siamo a livelli bassissimi. Quindi, secondo me, è vero che ci sono cose che sono un po' prospettiche, però è altrettanto vero che i fondamentali associati a queste attività prospettiche sono qui oggi e sono opportunità già presenti sul mercato. Quindi la mia domanda iniziale in questo caso qua è, ma le compagnie oggi sono pronte ad assicurare i NFT? Questa è una domanda cruciale, Marco. La risposta sicuramente è tante non lo sono ancora. Qualche compagnie si è già mossa, però tante non le sono. Noi dal nostro punto di vista cerchiamo di aiutare, diciamo, le compagnie sotto due direttrici fondamentalmente. La prima è quella che è un po' più utile a identificare quelli che sono i bisogni che vanno assicurati, quindi sostanzialmente noi abbiamo tre tipologie, macrotipologie, che sono quelle relative ai bisogni dei meta-user, quindi gli utenti che si affacciano al metaverso e quindi sostanzialmente bisogna creare, diciamo, i presupposti perché si vadano a soddisfare questi bisogni. Quella relativa al meta-business, quindi sostanzialmente i provider che offrono servizi all'interno del, diciamo, del metaverso e che quindi in un certo senso vanno assicurati in termini di erogazione, di vendita di prodotti, quindi assicurare una continuità del servizio, è quella di meta-provider, quindi sostanzialmente capire quali sono i bisogni che devono essere tutelati, vanno tutelati per quelli che sono appunto i provider di piattaforme del metaverso. Una volta aiutato, una volta che abbiamo sostanzialmente aiutato un po' le compagnie a comprendere meglio quali sono i need da soddisfare, quello su cui ci concentriamo sostanzialmente in Deloitte sono tre pilastri fondamentali, che sono quelli, il pilastro del modello operativo, quindi dove andiamo a identificare da un lato la strategia, i canali e quindi anche in paniera prospettica, come detto prima, i bisogni che andiamo a soddisfare. Poi c'è il pilastro dei, sostanzialmente, dei prodotti, quello che si va un po' a snocciolare come deve essere configurato il prodotto per andare a coprire un determinato rischio e quindi qui ci sono anche, c'è un reskilling un po' delle persone perché il classico attuario non può fare, deve un po' evolvere per riuscire a gestire questi nuovi prodotti. E poi c'è il tema del pilastro tax illegal, un pilastro che non va assolutamente sottovalutato in quanto ci troviamo in questo momento in un mercato che è deregolamentato. Quindi un mercato deregolamentato, avere un supporto e concentrarsi su queste tematiche è fondamentale per iniziare l'operatività nel rispetto di quello che possa essere in certo senso la normativa vigente. Poi ci sono altri due aspetti che dal mio punto di vista dovremmo ricordare che sono importanti. Uno è che le compagnie comunque anche nel metaverso continuano in un certo senso ad avere quel ruolo sociale che hanno nel mondo fisico e quindi questo non va, il fatto di spostarsi sul mondo virtuale non cambia il tema. E l'altro è la possibilità di utilizzare, diciamo, alcuni, la dico male, di utilizzare proprio degli NFT in alcuni casi come dei pass per agevolare, diciamo, sia che vengono utilizzati oggi per agevolare l'accesso ad alcuni servizi. Pensiamo ad esempio ai pass che permettono di accedere in maniera prioritaria a un concerto piuttosto che a un evento. Però in ambito assicurativo potrebbero essere utilizzati in ambito preventivo per aiutare l'assicurato ad avere una priorità quando deve fare, ad esempio, delle visite mediche, quindi avere una garanzia di accesso prioritaria. E l'NFT si sposa in maniera particolare anche con questo tipo di need. Tra l'altro da questi spunti potrebbe nascere un'altra puntata di questa smissione, se consideriamo le DAO e altri concetti legati all'Obtree con un enorme potenziale, secondo me, anche per le assicurazioni. Però veniamo a un altro punto di cui hai parlato poco fa, il punto che un angolo di osservazione è diverso. E faccio un inciso in questo caso. Oggi tu citavi Gucci e Nike, ma c'è un'altra industria, oltre al fashion, anzi più del fashion, che in questo momento sta facendo, tradizionalmente domina in questo ambito, domina sul metaverso, che è quella dei videogiochi, del gaming, sul quale è già assolutamente la realtà fare ricavi sul metaverso. Se dovessi fare una scommessa su quale sia la prossima area industriale, il prossimo ambito in cui il metaverso può dare valore, quindi può generare valore, è secondo me il tema workplace. In questo senso, tu prima citavi, quando parlavi di modello operativo, anche il fatto che il metaverso possa essere utilizzato come un luogo da agenzia virtuale, quindi un luogo dove collocare i prodotti assicurativi, sfruttando le peculiarità proprie del mezzo e quindi la possibilità ulteriori di promozione, di discussione, di informazione, ricordandoci di quel ruolo sociale, relativo al prodotto assicurativo. Ci dici qualcosa su quello che avete immaginato in questo momento? Ora, questo è sicuramente un tema importante. Io credo fortemente sul fatto che il metaverso possa costituire nel breve o nel lungo periodo un canale importante per la distribuzione, anche distribuzione, ma anche da utilizzare come mezzo di informazione per gli utenti che si approcciano nel metaverso, nel metaverso, una compagnia. In particolare, quello che possiamo, quello che farei è fare proprio un esempio concreto, cioè pensiamo, facciamo l'ipotesi, prova a guardare un attimo me come un agente assicurativo, tu farai la parte del meta user e proviamo a entrare insieme nella mia meta agenzia dove cercheremo di avere un'esperienza full digital. Ok. Abbiamo creato una replica virtuale della mia agenzia fisica, quindi esattamente come un'agenzia assicurativa tradizionale, i nostri avatar troveranno diversi corner suddivisi per aree di rischio assicurabili, in cui troverai consulenti assicurativi specializzati per la tutela di rischi connessi alla persona, ad esempio il caso del metaverso, l'intentità digitale, la tutela dei rischi del patrimonio, ad esempio il furto NFT, la tutela dei rischi di business. All'interno di questo spazio abbiamo creato per gli utenti delle esperienze che attraverso meccanismi di gamification possano sensibilizzare i visitatori sulle tematiche assicurative in generale connesse a questo nuovo mondo. Qui ad esempio siamo nell'area dell'agenzia dedicata ai meta business, quindi quelle aziende che operano all'interno del metaverso. Abbiamo creato un'esperienza virtuale che mostra gli effetti negativi derivanti dall'interruzione del servizio durante un importante evento nel metaverso. Come vediamo durante un concerto organizzato nel metaverso a titolo semplificativo Justin Bieber, il servizio è stato interrotto a causa di un problema tecnico. In questo caso ci sono numerosi attori economici che subiscono danni. L'artista un danno reputazionale, gli utenti chiederanno il rimborso del biglietto, gli sponsor chiederanno un risarcimento. Il nostro obiettivo come assicuratori è sensibilizzare i potenziali clienti su queste tematiche relative ai rischi che vanno incontro nell'ambito della propria attività nel metaverso e offrire un prodotto assicurativo per tutelarli. Così come per la tutela della business interruption, nel metaverso abbiamo creato altre esperienze per i numerosi rischi assicurabili. Spostandosi in altri corner della mia agenzia è possibile vivere esperienze simili. Ora ci spostiamo, ti mostro la sala in cui sono mostrati i principali servizi abilitati dalla realtà virtuale che offriamo in abbinamento ad alcune pollizze tradizionali. Qui i clienti possono toccare con mano il significato della telemedicina e quanto essa sia fondamentale in abbinamento alla tradizionale pollizia sanitaria. Bene Marco, spero che l'esperienza nella mia meta-agenzia ti sia piaciuta, una meta-agenzia che quindi possiamo utilizzare sia per aumentare la consapevolezza dei meta-user sui bisogni degli assicurativi che come ulteriore ovviamente canale di vendita quindi anche di possibili prodotti. Però ti lascio con, vorrei fare una considerazione importante con te nel senso nel momento in cui le compagnie si approcciano un cliente, un meta-utente ovviamente devono farlo, devono cercare di farlo nello stesso modo in cui un agente oggi approccia un cliente. Quindi utilizzare la stessa forma di linguaggio per questo per instaurare quello che è proprio il rapporto, che è una nuova fondamentale nel rapporto agente-cliente-compagnia-agente. Quindi ti faccio un esempio, se io ti dicessi questa frase, ho minato un meme di Bored Ape su Algorand che poi ho postato su un server Discord per ottenere un floor di 0.3 TH, ma la prossima volta voglio configurare lo smart contract con Solidity. Magari tu, sì perché sei un esperto del settore, ma secondo te quanti dirigenti di e-compagnia o agenti comprenderebbero questa frase al cento per cento? Io ti confermo che non ci ho capito niente, però condivido assolutamente lo spunto, anzi faccio mio un tweet che ho letto di recente che parlava di questo argomento dicendo che la crescita del settore avverrà in maniera molto più rapida quando si riuscirà a coinvolgere i bambini e i nonni su concetti di base e non quando si costruirà l'ennesima specializzazione su una conoscenza fortissima e già acquisita. Quindi condivido al cento per cento il tuo spunto. Ti ringrazio di essere intervenuto, spero che questo episodio sia stato di interesse di chi ci ascolta e vi do appuntamento al prossimo episodio di Gtalk. Grazie.